E' un attraverso Sì, è vero. Questa è l'unica è l'unica puba dove non riusciamo a non entrare l'SP e non ce l'ha esso entra per forza ogni volta entra la riuscente la riuscente la ruota non so non so Grazie per la visione 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 Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti Grazie a tutti